Come ordine degli psicologi siamo stati molto contenti della sensibilità che abbiamo ricevuto con la Regione per questa importantissima legge che ha dato poi modo di approvare il protocollo che garantisce l'assistenza psicologica ai minori dai 13 ai 30 anni alle loro famiglie per quello che riguarda il disagio. La possibilità di accedere al sostegno psicologico con anche un abbattimento di tutta una serie di biocrazia e credo che sia un modello anche di politica buona che riesce ad estrarre in contatto con le esigenze del proprio territorio. Quindi tutti gli abiti, è vero? Sì, è regionale, attraverso il medico di base o il pediatra di base si può facilmente attivare la possibilità di poter usufruire di un ciclo di sostegno psicologico gratuito per tutti i cittadini. Grazie.